Continuo a dire, e continuerò a dire fino all'ultimo giorno della mia carriera, ed eventualmente anche dopo, che noi, la finale di Budapest, non l'abbiamo persa. Queste le parole di José Mourinho in conferenza alla prima di Europa League. Parole che si riferiscono alla sconfitta immeritata in finale lo scorso anno. Tu cosa ne pensi?